Clarinetto Il libro intitolato Poteva andare meglio dove racconta la sua vita e alcuni simpatici aneddoti del musicista ed interprete jazz. Ascoltiamo due tra i brani più belli del suo repertorio interpretati a Clarinetto dal maestro Silvio Maggiore, jazz band e dancing paradise. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.